Stangata ad una nota discoteca di Salvarosa di Castelfranco, dove l'ispettorato del lavoro ha scoperto 10 lavoratori utilizzati in nero e con il sistema dei voucher 7 ragazze e 3 ragazze, tutti italiani. Ora il titolare del locale, per pagare il minimo della multa e pari a 15.000 euro, sarà obbligato ad assumerli tutti in part-time a tempo indeterminato, diversamente dover pagarne il doppio 30.000 euro. C'è stato solo un soggetto che ha tentato naturalmente di occultarsi ma è stato subito visto e ripreso anche con l'aiuto del titolare stesso e naturalmente poi verificheremo tutte quelle che sono le sue responsabilità, oltre che amministrative e anche eventualmente penali. Molta aggiuntiva di altri 20.000 euro da parte della polizia per una serie infinita di contravvenzioni. Mancano proprio segnali luminosi, cartelli vedati da fumare in tutti i locali perché sono diverse sale da ballo ed è un locale molto grande perché può addirittura ospitare 1.500 persone. Tra le sanzioni di polizia anche quella singolare a due buttafuori sprovviste del tesserino di identificazione. Scopo del blizzo incrociato è verificare che gli imprenditori che godono delle facilitazioni per il pagamento di sgravi fiscali assolvano gli obblighi di legge. Sì, questo è uno scopo che particolarmente investe l'ispettorato del lavoro. Per quanto ci riguarda invece attinenza con la polizia amministrativa è un'attenzione per quello che può essere la massima sicurezza dell'utente che si reca in certi locali di pubblico intrattenimento e anche per i lavoratori stessi che svolgono la propria attività all'interno di questi. Controllo di polizia e ispettorato del lavoro che continuano e si estendono ai locali di pubblico intrattenimento e non soltanto alle discoteche. È volontà dell'autorità di IPS continuare e chiaramente questo è solo l'inizio.